Caccia ai funghi, oramai aperta, e nel pieno di una stagione assai redditizia, l'allerta rimane alta per chi si addentra nei meandri dei boschi. Spesso una sottovalutazione del rischio porta tragiche conseguenze, non solo nelle foreste. L'ampante è l'esempio del recente dramma del torrente Raganello in Calabria, dove una piena improvvisa dell'affluente è costata la vita a 10 persone impegnate nell'attività di canyoning. Capita sovente che queste forre vengano attrezzate e trasformate in giostre accessibili a tutti, mentre i carrucoli sospese fra un versante montano e l'altro si stagliano all'orizzonte come otto volanti. Se si aggiungessero soltanto un paio di luci colorate, avremmo la montagna Luna Park, un'attrazione tutta nuova alla quale accedere, magari con un semplice ticket. Qui il senso del pericolo insito nei contesti naturali svanisce e la scarsa percezione del rischio è rafforzata dalle strutture realizzate in ambiente naturale, che vengono messe in sicurezza. E non poteva essere diversamente, il dibattito fra i favorevoli e i contrari si accende. Unica cosa certa è che gli incidenti in questi contesti sono all'ordine del giorno. Non da ultimo, un turista neozerandese che cerca un mese fa aveva subito numerosi traumi in seguito ad una discesa in canyoning in Val Bodengo. Qualsiasi ambiente naturale come la montagna è un ambiente sovente denso di pericoli e di rischi conseguenti. Questi rischi non si risolvono in modo immediato e anche una volta individuati non si possono affrontare unicamente attraverso abilità tecniche e attrezzature. Quindi la capacità di relazionarsi con l'ambiente, di capire che succede, soprattutto decidere cosa fare, sono dei processi complessi che richiedono tempo, esperienza, gradualità. Tutti elementi che di certo non si possono esaurire in pochi momenti attratti da una particolare attività da consumare in brevi momenti. Il rischio secondo l'esperto è che con queste nuove attrazioni si trasmette un messaggio forbiante della montagna. L'ambiente naturale, purché attrezzato, non è avulso da pericoli. Il rischio si può ridurre, ma non può essere eliminato. L'imprevisto precisa alla guida alpina può capitare anche ai più esperti. Il contesto alpino dunque è tutt'altro che da sottovalutare. Ricordiamoci che mettere in sicurezza significa rimuovere il pericolo, rimuovere i dubbi, le difficoltà, tutte caratteristiche che sono impossibili in qualsiasi attività in ambiente naturale, andare in montagna, nuotare, andare a cavallo. Quindi sarebbe più appropriato parlare di protezione. Processo, come dicevo prima, che non si esaurisce in pochi momenti di pratica, ma richiede diverso tempo, talvolta degli anni. Grazie.